I barconi con i profughi sono già arrivati in Sicilia, in Puglia e presto gli stranieri saranno smistati anche a Padova. Si avvicina una intensa stagione sul fronte dell'accoglienza che porterà con sé anche le immancabili polemiche. I padovani risponderanno positivamente, ha detto oggi il prefetto che ha presenziato a un'iniziativa benefica dei carabinieri. Io non temo di fronte a una stagione che sicuramente si presenta come una stagione difficile e complessa. delle situazioni difficili in maniera, se non per quell'organizzazione che necessariamente dobbiamo predisporre e che ovviamente stiamo predisponendo. A Padova viene chiesto sempre di più quest'anno? A Padova viene chiesto, guardi, quanto viene chiesto a ogni realtà del nostro territorio. Pensi che in questo momento la Sicilia è nuovamente in una situazione difficile perché gli sbarchi sono ricominciati, sono ricominciati da rotte anche che non erano state previste. Entro qualche giorno verrà sciolto anche il riservo sul bando dell'8-1, quello sull'accoglienza di circa 600 migranti alla Prandina e Bagnoli. In tutto Padova ospiterà per il 2016 2.200 profughi. L'allerta è massima anche per l'allarme terrorismo per il quale Padova si è attrezzata. Sul profilo del terrorismo devo dire che noi abbiamo alzato moltissimo il livello di attenzione. Forze speciali addestrate dell'arma e della polizia sono già al lavoro nei luoghi sensibili della città.